Castellani appare per lo più in film storici e interpreta sempre personaggi buoni. Eccetto che nel film Ben Hur del 1925, dove lo si vede nei panni del pirata Goltar. Inizia la sua carriera nel 1911 con i cortometraggi Santa Cecilia e la sposa del Nilo, interpretando il ruolo del protagonista. Nel 1913 lo vediamo nel film ungherese Quo Vadis, dove veste i panni di Ursus, ruolo che interpreterà nuovamente nell'omonimo film del 1924. Nel 1919 è nel cast di Il Toro Selvaggio, sempre nelle vesti di Ursus, che in questo caso è il protagonista del film. In seguito appare in La Sacra Bibbia. 1920, dove interpreta Caino, Messalina 1924, dove interpreta Tigrane, Gli ultimi giorni di Pompei 1926, Nei panni di Eumolpo, Quello che non muore 1926, dove è il protagonista, è la bella Corsara 1928, a fianco di Rina De Liguoro, dove interpreta il ruolo principale del Corsaro. Muore di diabete il 19 gennaio 1933 alla prematura età di 52 anni.